Abbiamo abbastanza di Kiro, io dico Kiro, è Noveme e io ci vedo Francesca. Vogliamo dedicarvi un canto, quelli che sperano. Che sono bravissimi. Quelli che sperano, che sperano Gesù, come le acchie, come le acchie, in volo si algerà. Come le acchie, come le acchie, in volo si algerà. Quelli che sperano, che sperano Gesù, come le acchie, in volo si algerà. Come le acchie, come le acchie, in volo si algerà. Camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano. Che nuove forza, che nuove forza, che sperano Gesù. Camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano. Che nuove forza, che nuove forza, che nel che sperano, che sperano Gesù. Camminano e non si affaticano, corrono e non si affaticano. Che nuove forza, che nuove forza, che nuove forza, che nel che sperano, che sperano Gesù. Che nuove forza, che nuove forza, che nel che sperano, che sperano Gesù. Ciao a tutti, col quadrato. Che bravi. Ciao, col quadrato. Ciao, ciao.